Dal Palamoda del Centro Ibisco di Città Sant'Angelo, ultimi preparativi in vista dell'inizio del tour del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico. Siamo con l'Art Director Maurizio Tocco. Ecco, che estate sarà? Allora, intanto quest'anno Miss Adriatico compie 46 anni, quindi diciamo che è quasi giovane ma non molto. Sarà un'estate ricca ovviamente di tappe perché avremo 20 tappe in giro per tutte le località della nostra regione, le località più belle ovviamente. Si sono iscritte tantissime ragazze, quindi noi diciamo ancora che le iscrizioni sono aperte ovviamente durante tutta l'estate. Naturalmente iscrizioni gratuite per tutte ragazze italiane e straniere. Assolutamente sì, perché ricordiamo sempre che è il gioco più bello dell'estate, Miss Adriatico. Tra l'altro patrocinato dalla regione Abruzzo e quindi per noi è un grande onore essere presenti sul territorio abruzzese con queste meraviglie. E devo dire che quest'anno si sono presentate tantissime belle ragazze e si sono già divertite, hanno già capito che Miss Adriatico è una vera e propria famiglia. Poi spettacoli che sono impreciositi anche da momenti di arte varia. Assolutamente, avremo tantissimi ospiti come i vincitori del Festival della Melodia, cabarettisti scusate e ovviamente anche comici eccetera. Quindi tanti balletti. Bisogna essere presenti soprattutto alla prima, all'anteprima diciamo nazionale di Miss Adriatico che si terrà proprio il 15 giugno sulla terrazza del mare del McDonald di Pescara. Quindi vi aspettiamo tutti, mi raccomando, e ne vedremo delle belle.